10 gennaio e 30 aprile 2024 sono le due date da ricordare per il passaggio dal mercato tutelato al mercato libero rispettivamente per gas ed energia elettrica al momento sono ancora 9 milioni di italiani che non hanno scelto di questi la metà rientra nella categoria vulnerabili per la quale è prevista una deroga tutti gli altri invece sono chiamati a scegliere il proprio gestore per chi non lo farà entro i termini previsti per quanto riguarda il gas ci sarà una proposta placet rimangono con lo stesso fornitore la bolletta sarà con i costi fissi rimarranno gli stessi di prima quindi che equivale a metà bolletta la rimanenza andrà a mercato libero e sarà l'offerta che farà il proprio fornitore se gli va bene quella proposta ok altrimenti può decidere di cambiare diverso quanto accadrà da fine aprile per l'energia elettrica gli utenti che non hanno deciso a chi rivolgersi nel mercato libero i propri nominativi verranno messi all'asta quindi ci saranno i fornitori che presenteranno delle proposte verranno messi all'asta e verrà giudicato a uno qualsiasi dei fornitori delineate le linee nelle quali gli utenti potranno muoversi dalla cis da alcuni consigli soprattutto per i più anziani non fidatevi delle proposte eclatanti cioè metà della bolletta è fatta comunque di costi fissi e l'energia tutti la comprano e quello è il prezzo più o meno insomma la proposta che noi facciamo è di rivolgervi a servizi almeno per gli anziani di cui ci sia almeno nelle vincidenze un ufficio fisico a cui rivolgersi attenzione anche ai termini contrattuali hai 14 giorni di tempo per bloccare il contratto e comunque subito dopo puoi cambiare contratto quando vuoi in un contesto come questo aumenta il rischio di cadere nella rete dei truffatori mai sottoscrivere mai dare consensi online senza aver visto il contratto quindi prima fatevelo dare cartaceo vi date una letta e due o tre giorni dopo eventualmente lo fate anche se vi capitano i venditori porta a porta per casa fatevi lasciare una copia scritta e vi ricontattate alcuni giorni dopo se non ve la lasciano vuol dire che c'è già qualcosa da nascondere prima quella peggiore è il porta a porta dove ci sono venditori senza scrupoli che arrivano e che quando tenti di mettono il piede in mezzo alla porta e se tu non riesci a documentare la violenza non puoi neanche fare nulla e quindi hanno perfino paura quando suona la porta di aprire attraverso il piede in mezzo alla porta di attraverso il piede in mezzo all'inizio